ecco sono riuscito a recuperare questo video che molto probabilmente è un video fatto all'ordine naturalmente durante uno dei tanti viaggi fatti da dei miei genitori con Gerardo credo che molto probabilmente potrebbe essere un video che va dal 65 al 1968 perché più avanti si vedrà mio fratello Gerardo che cammina quindi diciamo può essere collocato appunto in quel in quegli anni in quegli anni sì è un bel documento per me è molto emozionante di vedere queste immagini di questi viaggi che i miei genitori con molta devozione facevano all'ordine più avanti si vedrà qualcuno sì infatti ho riconosciuto qualche viso familiare anche se le immagini non sono molto nitide comunque per un attimo riesco a a vedere mia madre con con Gerardo ecco più chiare di così non riesco a metterle a fuoco le immagini dovete capire che è uno filmato di oltre 50 anni pensavo di averlo perso invece oggi dopo una breve ricerca sono riuscito a recuperarlo quanta gente questa è sor teresa sor teresa sì sì la riconosco sor teresa questa sì mi sa che più in avanti si vedrà meglio ma è sor teresa vediamo un pochino qui è tutta gente che non conosciamo queste due signorini nera a sinistra sono sicuramente mia madre e zia Antonietta ecco Gerardo che spinge la carrozzina che spinge la carrozzina si cammina è sor teresa sor teresa sì è proprio sor teresa inconfondibile sor teresa ecco mia madre che arriva ecco mia madre si è mia madre la riconosco e qui si vede meglio sor teresa è proprio lei è proprio lei ecco mia zia Antonietta mia zia Antonietta sempre insieme sempre insieme un grande affetto è il fiume che scorre silenzioso davanti alla grotta della Madonna come dicevo è sempre un'emozione per vedere queste immagini perché di Lourdes in casa mia si è sempre parlato ricordo la prima partenza con il treno bianco dei miei genitori con Gerardo nel 1960 e da quella data ogni anno si recavano in visita una grande manifestazione militari altrucci rossine che sfidano bel ricordo questo molto bello per me in tanti anni questo è l'unico video le uniche immagini come dicevo dei molteplici viaggi dei miei genitori di Lourdes gli alpini di Lourdes le arcate del santuario ecco il fiume che scorre silenzioso ecco qui c'è mia madre mia madre con mia zia e a sinistra dovrebbe essere il signor Mazzullo credo credo che sia proprio lui sì a destra un altro gruppo ma non riesco non riesco a a vedere qui c'è mio padre con Roberto Lecci mio fratello Gerardo a sinistra e la signora in bianco non riesco a capire è un bel ricordo molto bello grazie a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie.